Ciao, in questo video ti voglio parlare di una persona che mi sta molto a cuore. Non siamo parenti, non posso dire che siamo amici anche se ci conosciamo da ormai tanti anni. Si chiama Marco e ha una propria agenzia immobiliare. Ma io mi posso permettere anche di fare nome e cognome perché so che di sicuro avrei la sua autorizzazione per farlo, visto che ne parlo bene. Si chiama Marco Di Stefano, la DST immobiliare di Milano. Perché gli dedico un video? Perché l'ho detto a tanti amici, l'ho detto a tanti colleghi, l'ho detto a tutti i miei parenti. è una tra le prime 3, 4, 5 persone più valide che io abbia mai conosciuto in vita mia in ambito lavorativo. Permetto che io non mi occupo di questioni immobiliari, ma sapete tutti, mi occupo di design. Quindi cosa c'entra Marco? C'entra perché fin da quando io ho messo in vendita un alloggio a Milano, poi ne ho acquistato un altro, poi l'ho venduto, poi ne ho acquistato un altro, poi l'ho venduta, c'era sempre il Marco di mezzo. Perché? Perché io ho affidato a lui la totale gestione di tutta la documentazione, di tutti i rapporti con il notario, non lo so io, le ricerche, le ricerche, come si dice, com'è che si chiamano, a livello catastale, il catasto, il comune di Milano. Cioè voi sapete che quando un privato deve muoversi in questo ambito, se non è a dentro né al di fuori, cioè o ci sei o non ci sei, io non ci sono, non ci sono proprio, non ci sono con la testa per queste cose e ho bisogno di un consulente. Lui è il consulente, io ho sempre detto a tutti che è un vero peccato che Marco lavori in un ambito lavorativo che è abbastanza lontano dal mio, per cui al di là delle questioni personali e del bisogno che ho io di un consulente serio e affidabile come lui, non ci sono occasioni per collaborare in altro modo. Cioè a me sarebbe sempre piaciuto averlo come mio collaboratore di fiducia, come mio socio, come mio braccio destro, ma non perché lui dovesse il braccio destro mio, anche io braccio destro suo, cioè mi sarebbe sempre piaciuto lavorare seriamente con lui perché, e adesso dico il perché, è una persona affidabile, leale, colta, colta, capisce i tuoi problemi e cerca di risolverli, è puntuale, è preciso, è tutto, è tutto quello che qualcuno vorrebbe come consulente, come socio, come amico, come tutto. Io mi sbilancio in questi complimenti perché, perché non sono complimenti, sono cose vere che ho maturato con l'esperienza di una collaborazione di Marco che dura ormai da moltissimi anni e che, al dia del fatto che adesso sto vendendo l'ultimo immobile che avevo a disposizione, ecco, una collaborazione che magari potrebbe durare anche a lungo, non so come, ma adesso non ho intenzione di comprare ancora appartamenti, puoi venderli, puoi comprare, puoi venderli. No, però, ecco, io faccio questa mia dichiarazione di, come dire, amore professionale, ecco, verso una persona che merita tutto quello che gli si può dare perché, oltre a essere tutto quello che ho detto, è una bravissima persona. Quindi, mi sono sbilanciato, lo faccio raramente, se voi guardate tutti gli altri video che ho girato, mi sembra di averne girati in 94, 95, quindi un bel po', raramente mi sbilancio per parlare di qualcuno in questi termini, ma con Marco sento di farlo e di non essere smentito da nessuno. Per cui, boh, questa è la mia impressione, può essere anche uno spot pubblicitario, non lo so, non lo so. Comunque, è tutto vero, è tutto vero. Marco, adesso mi rivolgo a te, ti ringrazio molto per tutto quello che hai fatto fino ad adesso e spero anche per quello che potrai fare in futuro. Ciao Marco, ciao a tutti!